Continua a perdere pezzi l'amministrazione di Biceglie guidata dal sindaco Angel Antonio Angarano dopo l'abbandono dell'assessore alla cultura Tonia Spina, sostituita a fine dicembre da Rosaglia 7 e tempo di dimissioni anche per l'assessore allo sport e politiche giovanili Vittoria Sasso, che questa mattina ha salutato ufficialmente la giunta comunale, non senza uno strascico di polemiche. Esprimo la profonda delusione per un progetto civico nel quale ho fortemente creduto, ma che purtroppo non si è mai realizzato e per la totale solitudine in cui mi sono ritrovata ad operare, ha detto l'ormai ex assessore, motivando in questo modo la sua scelta di farsi da parte. Si conclude così, dopo un anno e mezzo, il suo lavoro in un'amministrazione che negli ultimi tempi, spiega, sta dando sempre più l'idea di una stentata sopravvivenza, lasciando la città in balia di se stessa. Alle ultime elezioni comunali Vittoria Sasso era stata la più suffragata della lista sinergie per Biceglie con 234 preferenze. Al suo ingresso in giunta seguì il subentro in consiglio comunale di Pierpaolo Pedone, attuale vicepresidente della provincia BAT. Una nuova tegola per il sindaco Angarano, già alle prese con le conseguenze della sentenza con cui il Tarra ha annullato l'ultimo bilancio di previsione, paralizzando almeno in parte la macchina amministrativa, che ora dovrà pensare a ricomporre la giunta, nominando una nuova donna per il rispetto degli equilibri di genere. Intanto le opposizioni incalzano e annunciano per mercoledì mattina una nuova conferenza stampa.